Siamo tornati dalla dottoressa Daniela Limonta, la nostra dietologa. Ciao Daniela. Ciao Giulia. Oggi insieme per parlare dei broccoli, tanto amati o tanto odiati, perché non tutti effettivamente li mangiano con piacere eppure hanno tante proprietà benefiche. Sì, incredibilmente sono forse la verdura più studiata in medicina, quella che realmente si è dimostrata con delle sperimentazioni scientifiche essere una verdura antitumorale, però di contro è una delle verdure poco apprezzate dai bambini. Sono fortunate, i miei figli piacciono, però è anche vero che li ho proposti da subito, sin da piccoli, quindi già a due o tre anni li ho sempre proposti. I bambini sono così, loro sono curiosi, se tu gli proponi sempre la verdura e inizi a proporla già in tenera età, in genere poi i bambini mangiano di tutto. Se non proponi mai i broccoli e glieli proponi una prima volta a cinque anni, il bambino li annuserà, sentirà un odore strano perché ha composti solforati all'interno ai broccoli e quindi l'odore non è meraviglioso e tenderà a rifiutarli. Sì, è una questione di abitudine anche quella. Diciamo perché sono così importanti i medicini e i broccoli, innanzitutto appartengono alla famiglia delle crucipare e sono una verdura estremamente ricca, ricca in sali minerali, ricca in fibre, ricca in vitamine. Per quanto riguarda i sali minerali abbiamo il ferro, il fosforo, il potassio, quindi sono davvero una verdura molto importante per tutti gli atleti. A livello vitaminico abbiamo la vitamina C, così importante in inverno per la prevenzione di raffreddori, sindrome influenzali perché stimola proprio il nostro sistema immunitario. Abbiamo poi la vitamina B3, la B5, la B6, l'acido folico, così importante lo diciamo sempre in gravidanza. Nonostante tutte queste ricchezze le calorie sono poche. Abbiamo pochissime calorie, 27 calorie per 100 grammi, che rende quindi questo contorno di broccoli consigliabile in ogni tipo di dieta, anche nelle diete dimagranti. I broccoli hanno poche calorie perché sono ricchi d'acqua. Daniela, perché allora contrastano le cellule tumorali? Allora, perché all'interno dei broccoli ci sono delle sostanze, dei fitocomposti, dei nomi strani, isotiocianati, rucine, indolo, che sono davvero la nostra barriera protettiva nei confronti del cancro. Mangiare regolarmente broccoli ci protegge dal tumore al colon, allo stomaco, al seno, alla prostata, alla pelle. La sostanza antitumorale più importante contenuta nei broccoli si chiama sulfurafano. Adesso ti spiego come è meravigliosa madre natura. Il sulfurafano si trova nei broccoli in forma inattiva, ma quando noi li mangiamo e iniziamo a masticarli si attiva. A questo punto il sulfurafano attivato è davvero l'anticancro per eccellenza perché contrasta la formazione delle cellule tumorali, induce proprio la morte, il suicidio delle cellule tumorali già esistenti e ci protegge dalle sostanze tossiche. Quindi questo sulfurafano è importantissimo. Ecco perché è proprio importante farli mangiare a tutti, anche ai bambini. Non arrendetevi mai, se la prima volta che proponete ai bambini i bambini vi dicono no, i broccoli non ci piacciono, riproponeteli con un'altra ricetta. Le ricette migliori sono quelle con la pasta. Se poi li riconoscono e rifiutano la pasta, delle volte si possono fare anche delle piccole bugie, si possono frullare. Uno dei miei tre figli non li amava particolarmente, in genere quando faccio la pasta al pesto ogni tanto la faccio speciale, quindi non è proprio un pesto ligure, ma è dovuto alla frullatura dei broccoli. Se vado a frullare i broccoli, un bel cucchiaio di parmigiano, la pasta è verde, però contiene il sulfurafano, quindi una pasta antitumorale. Attenzione al sulfurafano però ai tempi di cottura, perché queste sostanze tendono a denaturarsi dopo i dieci minuti di cottura, quindi il broccolo andrebbe consumato croccante. Se li cuociamo troppo, li facciamo bollire 20-30 minuti, gran parte di questi antiossidanti, di queste sostanze antitumorale va denaturata. E Daniela, meglio freschi o surgelati? È uguale, allora meno male che esistono le verdure surgelate, innanzitutto ci permettono di consumare i broccoli ad ogni stagione. E poi, per chi lavora e ha poco tempo di andare a comprare il prodotto fresco, l'abbiamo sempre libero e tranquillo nel nostro freezer. Attenzione, quando andiamo al supermercato, di prendere la busta giusta. Se sulla busta ci compare del ghiaccio, significa che la catena del freddo non è stata molto rispettata e quindi magari andremo a cercare una busta senza ghiaccio evidente. Ok, questo è un buon consiglio. Però vanno benissimo anche surgelati e ben venga tutta la verdura surgelata perché ci consente davvero di mangiarla ogni giorno. Un bel freezer con la verdura surgelata e un bel microonde per scongerarla salvano anche la donna lavoratrice che rientra a casa all'ultimo minuto perché davvero riesci a preparare in meno di mezz'ora una cena con la verdura che è sempre importante. Ricordiamo le cinque porzioni che andrebbero consumate ogni giorno. E Daniela, preferibilmente a pranzo o a cena? Meglio a pranzo, soprattutto nelle persone anziane perché i broccoli contengono dei carboidrati, delle fibre idrosolubili che potrebbero fermentare e quindi rendere la digestione un po' difficile. Quindi se proprio vogliamo mangiare una pasta ai broccoli, siamo persone anziane, meglio a pranzo. Daniela, benissimo, ci hai dato tanti consigli molto utili, ci hai anche svelato alcune cose che io personalmente non sapevo. Grazie mille, grazie per averci ospitato. Ciao! 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 Grazie a tutti.